Incontri, proiezioni, podcast, ma anche mostre e spettacoli teatrali da seguire sui canali web del Consiglio regionale delle Piemonte e del Polo del Novecento per celebrare il 76esimo anniversario della liberazione. Quello di quest'anno è ancora una volta un 25 aprile da festeggiare in modo virtuale, fisicamente lontani, ma comunque vicini nello spirito e negli intenti, per non dimenticare l'esempio e il contributo dei tanti italiani che si sono sacrificati per la libertà. Anche per annullare la distanza, il calendario delle manifestazioni proposte dal Polo del Novecento con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte durerà 15 giorni, dal 15 al 29 di aprile. Quest'anno grande spazio alle testimonianze visive e multimediali, a iniziare dalla proiezione di otto film su altrettanti momenti cruciali della liberazione, restaurati dall'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, che verranno presentati in diretta streaming sul canale YouTube dell'Archivio venerdì 16 aprile alle ore 18. La storia è la memoria di un popolo, di un paese. Lo studio della storia ha una grande valenza culturale. Ci porta a conoscere le nostre radici, il passato del quale condividiamo l'eredità. Da un punto di vista didattico, il ricorso al cinema assume un valore imprescindibile, non solo come strumento di insegnamento di straordinaria efficacia, ma anche come fonte documentaria per la storia del Novecento. Tra gli appuntamenti in programma segnaliamo il 19 aprile lo spettacolo Aria di Libertà, un omaggio alla vita di Mario Ghiglione, scritto da Giampiero Aloisio del Teatro Italiano del Disagio, e il 25 aprile il video Resistenza, dalla rese dei conti ai giorni cantati dei cantautori italiani, docufilm promosso da Lingua Doc, Proloco di Coazze e Polo del Novecento, con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione, che sarà trasmesso sui canali YouTube e Facebook del Consiglio regionale. Occasioni dunque per riflettere e per festeggiare, perché come ha ricordato il Vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Mauro Salizioni, il 25 aprile è una festa, perché la Resistenza fosse morte, dolore e sacrificio, ma fu anche gioia. La gioia di aver restituito agli italiani la libertà e di essere stati dalla parte giusta della storia. Il programma completo con tutte le iniziative e gli aggiornamenti è consultabile sui siti polodel900.it e cr.piemonte.it.